Namaste, io sono Ace the Brave, benvenuti al run giornaliera di Nuclear Tron partiamo vedendo tronbat.com, sono su un sito in questo momento che vi mostra come sono andate le varie run, i migliori momenti eccetera ve lo consiglio, si chiama tronbat.com, potete seguire appunto andando a cercare direttamente Ace the Brave e trovate esattamente cosa ho fatto giorno per giorno e cliccabile e tutto quanto cercherò magari di mostrarla all'inizio del video veniamo pure al gioco vediamo se riesco ad arrivarci ok e partiamo che silenzio che c'è, vediamo se devi far ripartire la musica no non parte la musica va bene c'è stato un update, l'update 71 e ci sono stati un sacco di miglioramenti piccolini come vedete ho di nuovo i giocatori iniziali quindi non posso giocare con Ice quindi giocheremo con YV ah il rate of fire è pop pop ok che a quanto pare è un'ispirazione dei soldi effettivamente è il triangolo tra virgolette illuminati del dollaro in realtà è il simbolo del simboletto che c'è sul dollaro insomma quindi vedremo di fare un po' di pratica con YV a quanto pare la sua pistola è super figa c'è la pistola d'oro o sbaglio quindi a quanto pare è un personaggio che fa molto più, tanto spara più velocemente e a quanto pare si comporta molto bene con le pistole e lo impareremo di volta in volta lo o la impareremo, non so esattamente se questi personaggi abbiano un sesso e lo scopriremo di volta in volta con tutto quello che facciamo non so neanche cosa voglia dire YV e lo scopriremo anche se sta per qualcosa di particolare ok siamo già a livello 2 wow grenade launcher e wrench prendiamoci il wrench si lo vedete anche da qua in alto vedete che c'è questo è contornato dal bianco mentre questo è contornato dal giallo quindi probabilmente è ah ok possiamo spaccare queste cose perfetto ok e andiamo a fare il primo la prima mutazione che può essere sharp teeth, last wish, boiling veins o gamma guts enemy touching you take damage no damage from explosion ottima questa cosa prendiamo boiling veins così evitiamo di distruggerci automaticamente ok ho preso un po' di colpi però va bene lo stesso vediamo di risparmiare un pochino questo è sempre quello dorato trovo a quanto pare questo è un nemico più forte del normale ho la fortuna di trovarlo sempre a quanto pare ho un cacchio di bullets mi fai passare? muori ok e tra l'altro qual'è la sua abilità? mi sa che spara più forte da quello che ho capito andiamo ah spara con tutte e due le armi assieme ottimo teniamoci queste due armi assieme vediamo cosa ci capita ho abbassato il volume anche come avevate chiesto magari se siete bene o male adesso non lo so però avrei bisogno no teniamoci il revolver anche se teniamoci il revolver perché forse è un po' più bravo con il revolver così non spreco troppi colpi teniamoci dell'energia e andiamo al prossimo piano con rhino skin 4 hp massimi kill lower your reload time buono trombat che è anche il nome del sito che vi ho citato poc'anzi yv brapp prendiamoci trombat e vediamo che cosa se aumenta probabilmente il mio potere secondario immagino qualcosa del genere questo lo distruggiamo questo lo distruggiamo così ho pochissimi hp sono stato colpito ah ok sparo ancora di più sparo 4 colpi alla volta muore bisogna di recuperare un po' di energia vabbè il bandito è là sopra mi piace questo personaggio mi piace un sacco se riesco a impararlo a zuzzare bene sono a posto come vedete sto anche imparando pian pianino a giocare crossbow oppure pop gun pop gun potrebbe anche essere prendiamo pop gun però prima dobbiamo ah aiuto dobbiamo vedere di sconfiggere questo ok ce l'abbiamo fatto e passiamo direttamente al prossimo livello fico ce l'abbiamo fatto sconfiggere il bandito di nuovo pop gun muori muori ok per un attimo ho detto devo ricordarmi come si fa a cambiare arma boom 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 aiuto sto malissimo sto malissimo boom 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 la mia pistoletta non fa un cacchio bisogna di pop gun mi sa quindi cambiamola uh 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 mio 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 ok ho un cacchio di energia non ho neanche visto quel maledetto lì sto sprecando un sacco di colpi però con sta cosa golden revolver si chiama questo golden revolver si chiama questo mmm facciamo così datemi un po' di esplogivi no di esplogivi di altra roba mi serve boom ok però adesso ce la stiamo cavando bene sta aumentando anche la mia mira tra l'altro pop gun è ottima perché in questi spazi ristretti posso sparare un po' a caso funziona e tra l'altro sto usando sto usando abbastanza l'abilità con la con la col tasto destro più o meno perché come vedete spreco un sacco di colpi solo a usarlo boom apriamo questa e apriamo questa salt rifle uh vieni con me ok abbiamo un'altra mutazione rabbit spawn more item drops ottimo rhinoskin più 4 hp in questo momento avrei bisogno di energia quindi prendiamoci rhinoskin almeno arriviamo a 5 di energia per ora boom e tra l'altro siamo in un posto nuovo siamo nella discarica a quanto pare perché vedo delle macchine si a quanto pare siamo nella discarica quindi sta andando molto bene questa run vedete che pian pianino sto imparando e mentre dico sto imparando muoio quindi a quanto pare c'è un livello di transizione e poi c'è questo è il livello 3-1 se non sbaglio ah avete visto era tutto calcolato queste salamandre le uccidiamo questi cosa sono? corbi? si fanno il rumore del corvo e questi colpi li posso respingere in qualche maniera? peccato che non ho potuto prendere il fucile d'assalto ma vedremo di combinare le macchine esplodono? macchine ci possiamo passare sopra? ho sprecato un po' di colpi per capire come funziona la dinamica delle macchine quello lì si muove questo si muove muori ok mi vogliono fregare fanno finta di essere morti ok vediamo di andare qua quello è un livello di transizione perché non ho trovato boss perché non ho trovato boss a conto pare anche questo è morto triple machine gun però c'è le stesse c'è le stesse armi prendiamolo giusto per fare i fighi e vediamo però di visto che siamo abbastanza lontani dal portale c'è qualcos'altro da prendere in giro là sopra? no ok perfetto così quarto schema 3-2 quindi il secondo mondo aiuto chi sono questi? abbiamo degli sniper chi è questo tipo di nemico? non è questo tipo di nemico qua chi sono questi che sparano? ah sono quelli col col cappello da cowboy triple machine gun ok ho chiamato anche la polizia casino ok per fortuna la polizia si uccide da sola a quanto pare ce n'è uno là sopra ti ho visto vieni qua eh? fallo ancora? boom ok qua facciamo il giro boom questo è esploso purtroppo siete morti tutti? siete morti tutti? wow ah c'era ancora gente che sta arrivando oddio dove siamo? ok a parte fare un po' di beatbox a quanto pare siamo qua perché abbiamo abbiamo distrutto la cosa della polizia c'entra con quello forse ah le corone vault complete pick your crown ok possiamo scegliere di prendere una corona bear head ok possiamo anche non prendere una corona bigger explosion 1 hp maximum revenge pick ups fade fast no ammo drops ah ok sono alterano di molto le run quindi queste cose le proveremo ma per adesso no ve le mostro tutte però vedete che praticamente sono cose al costo di altre quindi modificano molto la run per adesso mettiamo no siamo a livello 3-3 mettiamoci un po' di spazio qua sono tornati i corvi oh oh quello è un boss abbiamo il boss perché è il terzo livello ok cos'è sta cosa? un cane gigante big dog mori mori dobbiamo andarcene via scappare via da qua non so come ho fatto a sopravvivere super crossbow quanta roba sparo ok non capisco niente di quello che è successo però abbiamo sconfitto questo cane gigante a quanto pare ho bisogno di cambiare arma quindi oggi teniamo il wrench oppure il double flame shotgun vediamo un po' uuuu fico teniamoci queste due armi nuove sono molto molto interessanti sparando a casa col super crossbow è andato bene la disc gun abbiamo detto che è un'arma schifosissima chi è rimasta ancora in vita? nessuno wow quindi ce l'abbiamo fatta possiamo prendere impact vrist che abbiamo già visto last wish che mi dà tutta l'energia moro a capire il medikit bene e o plutonio hunger prendiamoci last wish perché così almeno recuperiamo energia siamo al 4-1 un altro record questo dovrebbe essere il livello di transizione se ho ben capito come funziona allora peccato che non sia la run giornaliera ma sta andando molto bene a continuare io sto sparando a caso con questi nemici cristallosi quanto pare questo ha a che fare con cristalli in qualche maniera perché c'è roba viola ci sono un sacco di cristalli aiuto cosa sparano boom io sparo a caso però il flame shotgun sta funzionando molto bene quindi andiamo di fare un po' il giro senza mai fermarci perché questi si sparano e fanno malissimo mi hanno tolto 4 ok ho fatto un bel po' di stunning così dobbiamo di sparare qua nel nulla pubblicheremo qualcosa no prima o poi ok però adesso è andata molto bene questa cosa spariamogli in faccia a questo non è l'ultimo nemico non è l'ultimo nemico ok vediamo cosa c'è qua dentro pop rifle mi piacciono molto queste armi che ho probabilmente sprecherò un sacco di cose ma siamo riusciti ad arrivare al livello 6 higher rate of fire more medikit no more hp dai medikit melee ranger non mi interessa rabbit's paw più item vada per i più vada per i più item siamo a livello 5 e 1 quindi si era un livello di transizione siamo a livello siamo a livello molto interessante io comincio ad adorare quest'arma perché è fantastica che rimbalza e fa malissimo per il fare però non è che faccia non è che abbia tantissimi colpi a disposizione quindi dovrò alternare di fortuna ci sono un sacco di armi in giro quello mi voleva lanciare una macchina addosso toxic launcher altra arma nuova vediamo un po' che cosa usa usa gli esplosivi e vediamo come funziona ah ok come il granite launcher solo che fa la cosa esplosiva solo che fa la cosa tossica muori ok volevo ottenere quest'arma qui magari ok non so mi ha fatto sopravvivere di nuovo vediamo di prenderci tutta quanta questa roba qua max hp ottimo ci sono ancora massimo di energia abbiamo un bel po' di colpi in realtà manca ancora questo ok questi mi corrono incontro proprio ok ce l'abbiamo fatta a finire anche il 5-1 e siamo al 5-2 immagino che al 5-3 ci sarà un boss se continuo così io comincio veramente ad adorare questo tipo questo fucile più fiammeggiante dovrei switchare perché adesso dovrei prendere un po' di colpi in più così ubicchiamoli tutti forse sto sprecando molti colpi è un abbastanza overkill probabilmente ucciderli così che non mi sembra che questi lupetti abbiano tanta energia anche perché quanti è che ne sparo alla volta? ne sparo 5 alla volta aiuto che cacchio di sparo hai? ok abbiamo avviato la polizia vediamo di scappare dalla polizia gentilmente ho pochissimi colpi sempre di meno vediamo se ne recuperiamo un po' perfetto adesso con cazzo qui abbiamo spaccato direttamente il coso della polizia qua andiamo qua sotto la stiamo cavando egregiamente con questa run ho fatto un sacco di esperienza in più a quanto pare si vede dopo tre episodi ho già preso un po' abbastanza la mano mi fa molto piacere questa cosa spero si veda la differenza e sappiate che io non ho giocato al di fuori di quello che registro mi sono proprio imposto questa cosa per mostrarvi al 100% abbiamo il flak cannon se le mie conoscenze di di come si chiama di unreal tournament mi ricorda si esatto funziona più o meno così il cannone a fermentazione che tiene le cose le stesse cose del flame del double flame shotgun quindi vediamo di tenere questo piuttosto potrei andare tutto con una sola arma cioè mettere questa ah tra l'altro non sto neanche utilizzando non sto neanche utilizzando l'abilità col tasto destro perché mi farebbe sprecare ancora più colpi a quanto pare 5-3 questo è il livello dove c'è un boss quindi aiuto quanta gente che posto brutto deve spawnare ah questo è il boss cos'è è un boss che vola in giro a quanto pare ah mi ha ucciso ok però siamo arrivati alla 5-3 questo boss non l'avevo mai affrontato prima vediamo un po' che cosa fa a quanto pare vola c'è un jetpack qualcosa del genere comunque molto bene abbiamo fatto 261 kill che se avevate visto praticamente è più del doppio di quello che abbiamo fatto in totale finora quindi ritorniamo al nostro al nostro cosa iniziale e vediamo di prepararci allora alla daily run abbiamo sbloccato tutti i personaggi compreso il robot che non l'abbiamo sbloccato l'altra volta e ci manca questo personaggino qua vediamo di prendere il loro YV per la run giornaliera vediamo a che punto riusciamo a classificarci vediamo se va meglio o peggio rispetto a quell'altra tante tattiche nuove abbiamo provato cominciamo a conoscere un bel po' di cose nuove questo personaggio mi piace veramente veramente tanto soul trifle l'ho mancato prima quindi lo possiamo provare quindi spara delle raffichette di colpi si esatto devo se tengo se tengo premuto fa queste raffiche qua quindi posso fare come è praticamente funziona come l'heavy machine gun di metaslug cioè facendo così posso fare un pochino più continuato come sparo però teniamoci per adesso questo la devo dire che però la pistoletta il golden che tra l'altro ha sempre quanto pare YV inizia sempre con questo tipo di arma quanto potrei fare così è usare l'abilità col tasto destro e quindi fare i colpi più potenti quindi vengono colpi più potenti però mi spreca il doppio delle munizioni mi sembra possiamo essere più chirurgici però col revolver e a quanto pare tenendo lo stesso tipo di arma quindi tenendo due armi che tengono lo stesso tipo di proiettili in questo caso i bullets probabilmente prenderò solo bullets dai vari drop quindi non è che prendo tipo laser o esplosivi tra le cose che raccolgo almeno mi sembra che stia raccogliendo solo bullets da quello che vedo quindi forse è bello rimanere con due armi dello stesso tipo ls enemy hp enemy statching most hit bullets become ammo proviamo questo kill over si ok se uccidiamo qualcuno spariamo più velocemente che magari si esatto funziona molto meglio con questo aiuto andiamo di sparare col destro questa è mia aiuto ok ce l'abbiamo fatta sconfiggerlo adesso vediamo di fare un po' più i conservativi e vedere di sopravvivere al resto che proviamo là c'è un medikit che ho perso purtroppo ok ci sono ancora un sacco di amici altri medikit che trovo in giro casse robe varie no per adesso abbiamo due hp quindi potrebbe essere il caso di prendere last wish che ci ha salvato la vita un po' prima se avessi un esplosivo adesso sarebbe molto bello speriamo di non farci colpire ok due hp e pop rifle che forse potrebbe no lasciamolo stare patient potremmo anche mutare dopo figo melee range push through unlimited no questo non mi interessa prendiamo scarier face quindi possiamo uccidere più facilmente i nemici perché hanno meno energia questo è il livello di transizione aiuto 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 a volte dovrò sparare l'impazzata questo non esplode questi devo stare attento perché mi attaccano in corpo a corpo devo stare attento perché se attaccano in corpo a corpo sono un po' più curiosi quindi io praticamente devo sparare a casaccio dato mi vengono incontro c'è una c'è una cassa grande di rossa che contiene armi quindi cassa dei proiettili qua sotto vediamo di andare a prendere quella 22 no 52 bullet molto bene 3 armi bazooka slugger e machine gun machine gun molto buono slugger funziona con si lo slugger è questo no va bene forse facciamo oh machine gun e assault rifle che sono due armi tutte e due a bullet quindi manteniamo questa cosa l'unica che devo imparare esatto a colpire magari dentro no non mi piace già più questo quindi riprendiamoci la golden la golden gun il golden revolver tutto pare YV funziona molto bene con questo tipo di arma abbiamo devastato un po' di gente e abbiamo recuperato un po' di energia in più 3-1 vediamo un po' come ci cambiamo nella 3-1 non abbiamo un cacchio di energia quindi vediamo di andare su siamo già a livello 4 perché abbiamo iniziato praticamente che lo eravamo vediamo di distruggere questa macchina prima in modo che ci facciamo una via dietro perché questi volano e è fastidioso se volano nessuna arma corpo a corpo ancora bene perché vuol dire che sto imparando anche a farne a meno lì ci sono troppe trappole non su di qua ok questi non fanno danno da corpo a corpo a molto pare io sono sempre con due a carriera lì ho visto un medikit gigante mi sembra giù sì c'è un medikit gigante mio ben 4 hp flame shotgun non posso non prenderlo il flame mi è piaciuto tantissimo nella lama precedente quindi continuiamo ad usarlo questa volta però non è double è quello normale tre colpi ok con questo qua prendiamoci un po' di esplosivi esplode ah mi ha fatto un sacco di danni sta cosa c'è la swish rhinoskin ci prendiamo rhinoskin vai con rhinoskin siamo ritornati con 5 hp mori 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 merda merda ok sentirete dire parolacce finalmente visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto a quanto pare sembra strano che non dica parolacce a me sembra così normale ma ogni tanto ci vuole perché in queste run sono molto frenetiche è molto frenetico questo gioco ancora di più di Isaac flame shotgun comincia ad adorare follemente questo tipo di armi però non ho colpi a disposizione che è un grosso problema soprattutto quando sparo ah per fortuna sparo un colpo solo alla volta quindi riprendiamoci bullet ok tu vola qua sotto così posso ucciderti tranquillità tranquillità per modo di dire perché ho rischiato di morire un'altra volta au 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 ho fatto una cavolata ho visto quel coso quella specie di ninja muoversi quello che dorme e mi ha fatto un po' paura probabilmente perché ha una spada in mano ho visto bene comunque se ce la prendiamo con calma au se ce la prendiamo con calma moriamo se andiamo avanti così quindi stiamo attenti cosa mi ha colpito ahhh il fuoco ci mette un sacco a disperdersi comunque abbiamo fatto 137 kill e credo sia il record diciamo delle range oraliere grazie ancora delle visione ci vediamo quindi a domani questa range oraliere non è stato granché ma mi sono divertito molto a fare la run di allenamento spero vi sia piaciuto probabilmente questo video lo caricherò non in 60 fps perché è un pochino più lungo e quindi dovrò ricaricarlo a 30 fps perché sennò è un casino solo renderizzarlo ci vediamo domani con un'altra run di nuclear tron io sono Eastbrave namaste and be brave io sono Eastbrave come ave